Ah via linfrescatina, io mi brucio il culo ma bisogna che lo pulisca bene gli uditi perchè sennò cosa mi fa fermazione, mangio peso e ora si brucio Bella linfrescatina, la fontanella ci si ne infresca un pochino ligeneramente è una cosa importante bisogna risciacquagnare bene le problematiche bisogna andare e risciacquagnale io che c'è su Maya non c'è un terrà che la ho lasciato via via, una bella rinfrescatina, una bella di sciacquare, aspetta eh, di genere no, stanno portando, ah, che bella, via anche i denti, osso, anche i denti, oi oi, aspetta, mi produce ancora, fammene pulire per bene, osso, fammene pulire a modo, poi voi dite che siamo sudici, se no, oi oi, ancora un'altra volta, andiamo a sciacquassi i denti, ah, che spettacolo, osso, che rinfrescà,